carissimi amicissimi eccoci di nuovo qui per una puntata del tg comics dopo quella del lunedì arriva quella del mercoledì che è di mercoledì perché perché il corriere ieri se ne ha fregato bellamente e ci ha consegnato col cippi di merlo bene quindi era preventivata la puntata col ganga il ritorno del ganga ma che succede che il mercoledì coincide col giorno di riposo del ganga ergo nuova puntata in solitaria non ve la prendete a male ma la soglia di demenza purtroppo diminuirà perché lo sapete benissimo che davide la alza a livelli veramente mistici allora proseguiamo con quella modalità abbastanza organica a proposito vi ringraziamo anche appunto a nome di davide per tutti quanti i consigli suggerimenti che ci avete dato continuate a darcene perché noi comunque cerchiamo di ascoltare e di accontentare tutti quanti non sempre ci riusciamo anzi quasi mai però sappiate che noi teniamo estremamente conto dei vostri suggerimenti ringraziamo altresì tutti quelli che si sono iscritti alla pagina del tg comics su facebook e al canale youtube perché nell'ultima settimana siete aumentati a dismisura sicuramente anche perché il buon pino e pino cuozzo del della grande pagina capo pino ha condiviso la recensione che abbiamo fatto dei champions della panini a proposito se avrò tempo in settimana proverò a farne un'altra questa volta su un manga sono uscite comunque un botto di cose speriamo che io ci riesca a stare appresso questa volta però cominciamo con dei dvd blu ray perché la dnit ci porta mobile suite gundam thunderbolts e qui ci perdonerete per i riflessi ma la plastichina non aiuta the summer sky che credo e qui mi potrà essere d'aiuto il buon gianmarcos e stili sia il film che è andato sul cinema il film che è andato sul cinema nelle sale cinematografiche chi lo sa chi lo sa questa è la versione dvd e poi abbiamo anche la versione blu ray che credo siano sempre una first press nel senso che le prime copie godranno di una sorta di sovraccoperta di questo cartoncino con all'interno anche un booklet poi ci sono video promozione buclet di 16 pagine video promozionali trailer originale intervista al produttore naoiro ogata la durata è di 69 minuti esclusi gli extra o sì 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 esatto ho letto proprio bene quindi questi sono i gundam e poi una cosa uscirà già da qualche tempo ma che ci è ritornata e avevo piacere di mostrarvi sempre per la dinit sempre un cofanetto limitato perché è un totale di mille copie questa è la copia addirittura 615 per quanto riguarda la serie di 24 episodi di chi sei giù l'ospite indesiderato leggiamo qualcosa i membri di specie diverse a volte vivono in simbiosi a volte si uccidono ma non potranno mai comprendersi a vicenda una tranquilla notte in giappone sembra nevicare ma ad uno sguardo più attento quelli che scendono non sono fiocchi di neve ma parassiti alieni con una missione ben precisa sterminare l'umanità quella notte qualcosa penetra nel corpo di shinichi tranquillo studente 17 anni di tokyo e si impossessa della sua mano destra da quel momento la sua vita cambierà drasticamente ricordiamo che esiste anche la versione in dvd questa è blu ray e ce n'è da vedere roba come direbbero quelli bravi perché sono 600 minuti extra esclusi quindi ragazzuoli buttatevi pure su chi sei giù e qui abbiamo detto tutto quanto ora devo raccoglierli mi perdonerete passiamo alla fase dei supereroi americani e delle varie ed eventuali quindi se ci riesco bene ho preso il quantitativo giusto di materiale cominciamo con un volumone eccolo qua bello grosso cicciottello facciamo vedere lo spessore ragazzi e arrivano la bellezza di un paio di autori clamorosi perché abbiamo kart busiek e mark bugley che ci narrano le gesta dei thunderballs i più grandi eroi della terra è un volume da ben 26 euro ma ce n'è di roba all'interno e andiamo a leggere i fantastici quattro e gli avengers gli eroi più amati e più fidati del pianeta sono morti a colmare il vuoto appariranno dal nulla nuovi giustizieri riuniti nei thunderballs il condottiero citizen v guida macuno songbird guida macuno songbird meteorite atlas e techno in missioni letali contro i criminali che stanno approfittando dell'assenza degli eroi per mettere a ferro e fuoco il mondo ma quali sono le vere motivazioni di thunderballs e qual è il loro incredibile segreto una delle saghe più amate negli ultimi degli anni 90 nella sua edizione definitiva una gemma in puro marvel style scritta da kart busiek e disegnata da mark bugley con ospiti speciali hulk spiderman e namor e quindi io adesso vi faccio vedere un po delle pagine all'interno con l'inconfondibile stile di mark bugley che ricorderete sicuramente per la sua ranna sull'uomo ragno ecco qua piuttosto avete visto spiderman homecoming che ve ne sembra me lo fate sapere ho visto che ha incassato svariati soldini in tutto il mondo quindi thunderballs sono andati passiamo agli spillatini con la potente tor numero 15 che dovrebbe corrispondere al numero 220 della collana regolare esatto il prezzo è 2 euro e 90 il titolo è l'altro martello all'interno storie di jason aaron e ai disegni olivier coapel so se dice così però io lo pronuncio in contesto modo due storie all'interno the unworthy tour part 2 e sì e poi 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 un'altra storia tratta da mighty thor numero 14 una del febbraio e una del marzo 2017 andiamo a farvi vedere i disegni di coapel che meritano meritano sempre una cifra ragazzi voilà se ci riesco vi dico anche i disegnatori della seconda storia perché credo di esserci già incappato esatto storia sempre di jason aaron e disegni di russell dauterman quindi di palo in frasca saltiamo non è vero a death pool numero 29 ragazzuoli death pool numero 29 che corrisponde al numero 88 della testata regolare prezzo sempre 2 euro e 90 quindi ci lascia presupporre un paio di storie infatti è così una death pool 20 e una death pool 21 rispetto tutte e due di dicembre 2016 con jerry duggan alla storia e matteo lolli ai disegni per quanto riguarda la prima e lo stesso anche per la seconda sempre jerry duggan e matteo lolli andiamo a far vedere qualche cosina così per rendere questa bella pagina pubblicità una pagina introduttiva ed ecco un altro po di disegni death pool che merita merita sempre altro spillato questa volta passiamo a capitana america numero 15 il suo miglior amico sarebbe capitana america numero 85 con spencer ai testi ragazzuoli il prezzo è 3 euro e 30 quindi ci sono tre storie all'interno una da capitana america steve rogers numero 8 un'altra da capitana america si sam wilson numero 15 e un'altra da capitana america sam wilson numero 16 e volevo dirvi se lo trovo qualcuno che disegna ma questa volta mi è capitato come al ganga che è con nick spencer e jesus sites ai disegni gli altri ve li scoprite da soli però vi faccio vedere una bella pagina abbastanza emblematica eppure molto molto fica a mio modesto parere ne faccio vedere anche un'altra proseguendo invincible iron man numero 2 che corrisponde al numero 51 della testata italiana e qui devo fare le mie scuse al mio amico stefano caselli perché l'altra volta quando abbiamo presentato invincible iron man 1 non lo avevo citato e lui giustamente mi ha detto ma guarda che sto pure io su sto numero che cazzarola stai a dire c'hai ragione stefano mi sono dimenticato spero di aver rimediato questa volta faccio mea 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 culpa e quindi adesso ti renderò giustizia perché dopo aver citato brian michael bendis alla storia facciamo vedere una splesciona eccola disegnata da stefano ma perché sono stato cattivo l'altra volta facciamo vedere anche un altro po di disegni del buon caselli tra le altre cose grosso 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 intenditore di musica gioc e metallosa è sempre prodigo di grandi consigli grazie come sempre stefanino il prezzo 2 euro e 90 proseguiamo con gli incredibili avengers numero 15 ragazzuoli eccolo qua ritroviamo i thunderbolts il numero della collana è del numero 47 degli incredibili avengers e l'interrogativo è elettra il prezzo è 3 euro e 50 quindi c'è un po più di robetta andiamo sulle quattro storielle non ve le sto a dire tutte quante ritroviamo jerry duggan ai testi come su deadpool e il primo disegnatore pepe larraz che guardate che sbabam tavolona che ci presenta riccamente riccamente mastodontica e continua anche sulla terza e la quarta guardate che robetta è grossa 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 azione mi sembra faccio vedere però anche questo perché miss marvel sempre un personaggetto molto simpatico mi piace mi piace poi abbiamo gli avengers numero 3 eccolo qui dovrebbe essere il numero 78 della collana regolare i vendicatori infatti prezzo 3 euro e 50 all'interno troviamo occupy avengers e la potente capitan marvel e squadrone supremo kang wars troviamo mark wade ah beh guardate che figo come comincia mica male mica 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 male abbiamo quattro storie mark wade e mike del mondo ai disegni ragazzuoli guardate che che beltate quale quale beltate abbastanza così come dire un po psichedelico si può dire però mi piace pittorico psichedelico pittorico un pazza che il figo veramente notevole anche quest'altro merita 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 tutto poi poi quasi finito con gli spillati si ultimo spillato non poteva che essere dedicato al nostro ragnetto di quartiere numero 29 di amazing spider man che corrisponde al numero 678 della testata all'interno un botto di roba prezzo 350 prowler silk spider woman il complotto del clone un'alleanza impensabile e troviamo appunto tre storiellone quella dell'uomo ragno è scritta da dan slot e jim cheung alle matite che noi ci andiamo teste a gustare guardate che spettacolo anche in questo caso mica mica male ma per l'uomo ragno lasciate un'altra cosina così per l'uomo ragno dopo il mascellone non finisce qui perché c'è anche la raccolta delle storie che erano sullo spillatino in volumozzo classico che riscondono sempre un notevole successo questi volumetti il numero uno che contiene le prime sei storie di amazing spider man contenuti sugli spillati dan slot e umberto ramos sono dei maestri in quello che fanno e si completano a vicenda in modo brillante il ritorno del più grande eroe di tutti i tempi e per chi avesse di dubbio facciamo vedere un po di interno con delle cover ma anche qualche pagina interna con i disegni di ramos prezzo 14 euro sono leggermente lievitati no però forse c'è una storia in più generalmente c'erano 5 questa cena 6 e poi un paio di volumi della valiant che credo vadano a recuperare storie edite precedentemente perché abbiamo sia il primo che il secondo volume di rai eccolo qua per la valiant prezzo 8 euro e 90 due volumi che vanno a coprire un arco di ben otto storie dove il primo ha un titolo guardato nel giappone il quarantunesimo secolo il fantasma del giappone e poi liberaci dal padre battaglia per il nuovo giappone allora volete vedere qualcosa pure di rai beh giustamente perché non farvelo vedere eccolo qua valiant che credo goda ancora della promozione del 25 per cento di sconto ora passiamo volanti volanti alle varie andiamo a far vedere una produzione della shock dom il fanservice si paga a parte volumetto da 12 euro per un pubblico maturo tutto ciò che puoi immaginare è reale una citazione di pablo picasso all'interno essendoci del fanservice non vi posso mostrare il contenuto ve lo dovete venire a vedere qua in negozio poi passiamo a rì di paperoga numero due eccolo qui per la disney del prezzo di 3 euro e 50 con all'interno guardate che figo veramente veramente notevole ci abbiamo ci abbiamo una marea di contenuti ma ecco qua volevo far vedere questa storia di silvia ziche sempre 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 bravissima veramente veramente mi piacerebbe avere un bel disegno della ziche teenage mutant ninja turtles arriva al numero 34 prosegue 96 pagine al prezzo di 8 euro e 90 ragazzi letterhead sempre di kevin eastman e bobby kurnov e tom waltz alla storia e la sceneggiatura di tom waltz con ai disegni ai disegni michael di alinas e mateus santoluco andiamo a far vedere un po di tavole all'interno cercando di non spoilerarvi la storia c'era anche una pubblicità dei power rangers poi viste le ninja turtles passiamo a star wars numero 25 dove ritroviamo jason aron ai testi ragazzuoli e il buon molina ai disegni orge molina prezzo 2 euro e 90 e dovrebbe esserci anche qui almeno un paio di storie e facciamo vedere le pagine interne con i disegni spaziali e poi ovviamente vado a prendere la metà dove c'è la pubblicità continuiamo 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 la cosmo o guardate che bel volumozzo continuano le storie di alan moore the complete alan moore con future shocks 19 euro e 90 prima di watchman e di v per vendetta c'era targ raccolte per la prima volta in un unico volume ecco a voi tutte le storie scritte da alan moore per future shocks una serie di bizzarri racconti di fantascienza pieni di black humor in cui l'apparenza non fa che ingannare questa antologia da brivido è disegnata da molti dei nomi più leggendari del fumetto britannico come alan davis steve dillon e dave gibbons a completare il volume oltre 100 pagine che comprendono decine di storie autoconclusive che muro ha scritto per la testata 2000 ad un'edizione integrale imprescindibile per tutti gli appassionati di alan moore o più in generale di fumetti eccolo qui e andiamo a vedere qualche tavola interna per farvi capire e apprezzare questo volumone tutto in black and white rigorosamente in black and white poi poi rimanendo in tema alan moore c'è anche la restampa di neonomicon eccolo qua la coppia alan moore e jason barrogs prezzo 18 euro ragazzi questo fumetto è l'esempio di come l'horror debba essere trattato in chiave moderna mai in memore del passato lasciateci dire che si tratta di qualcosa di unico questo scritto bad comics punto it gli orrori dei miti di cthulhu non sono mai stati così reali neonomicon è un originale realistico poliziesco dalle tinte horror che si offre al contempo come riflessione sull'uomo lovecraft la sua opera e sulle zone grigie di entrambi eccolo qua era un'opera della avatar press per la collana horror cento per cento hd della panini volete vedere qualcosa all'interno anche di questo andiamo a far vedere eccolo qua c'è un po di tutto e via e via anche neonomicon l'abbiamo fatto vedere alleggeriamo il tutto con don camillo il tredicesimo volume il prezzo è 12 euro e 90 il titolo è la fanciulla dai capelli rossi anche questo è un black and white e andiamo a mostrare le tavole che ci fanno vedere comunque un bel disegno niente niente male poi poi adventure time arriva il numero 44 quello qui prezzo è 2 euro e 90 questo dovreste conoscerlo vero nè vero nè vero poi pick up a giant arriva il numero 33 al prezzo di 3 euro e 90 la fase 2 anche qui dimostriamo un po dei disegni mi sono tenuto una cosa della cosmo per chiudere la rubrica delle varie con lady meccanica perché l'ho tenuta alla fine perché parla il tema steampunk e siccome c'è sempre poca roba in giro steampunk viene molto apprezzata e allora ho fatto il cube de teatro e vi presento appunto questo volumozzo da 14 euro e 90 per la cosmo comics in un mondo steampunk fatto di magia e scienza dove fluttuano dirigibili e mostri si aggirano per le strade più boie un'eroina coraggiosa affronta il passato che la perseguita il mistero del corpo meccanico eccolo qua questo volume raccoglie la prima parte del ciclo inaugurale di lady meccanica dal titolo il mistero del corpo meccanico e numerosi contenuti extra della benitez production eccolo qua joe benitez lasciamo vedere pure qualche cosa perché veramente devo dire che merita ovviamente come se potremmo sbagliare un'altra pagina inutile e finalmente guardate che bei 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 disegni o finisce anche la parte delle varie comincere a questo punto a mazzetta con un po di manga se ce la faccio è perché mica detto che ce la faccio allora andiamo un po raffica one punch man arriva al numero 9 eccolo qua attesissimo uno dei manga che sta vendendo di più in assoluto sia come novità che come arretrati poi segue ogni nostro venerdì numero 11 allora one punch man a 4 50 rimasto così sempre a 4 50 anche ogni nostro venerdì numero 11 e poi bleach penultimo numero eccolo qua numero 73 battlefield burning sempre 4 euro e poi abbiamo il numero 2 di psycho pass ispettore akane tsune mori sono riuscito a leggere quasi metà del primo albo e vi devo dire che mi piace molto di più dell'altro psycho pass che è psycho pass shina shina qualche cosa psycho pass ce l'ho portata di mano ispettore shina kogami ecco mi piace di più akane tsune mori l'ho detto l'ho detto 4 euro e 50 o finalmente è uscito il numero 8 di nu yashiki che credo in giappone si concluda con il 10 comunque manca poco e vediamo come andranno avanti le storie di questi due tizi che sono diventati praticamente dei corpi meccanici non vi dico come perché se volete vi prendete il primo numero e cominciate a leggerlo dallo stesso autore di guns hiroya oku altamente consigliato vi faccio vedere pure un po di disegnini all'interno non vi posso far vedere tutto ragazzi perché insomma non ci abbiamo proprio tempo poi arriva il numero 8 della ristampa di blame in a nu yashiki il prezzo in assoluto è sempre 450 mentre a 550 eccolo qua arriva blame avete visto il film su netflix io devo ancora finire di vederlo sono arrivato praticamente a metà poi la torre fantasma numero 9 ragazzi 4 euro e 50 che numero sarà questo l'ultimo non ultimo quanto dura è invece proprio l'ultimo a finisce qua e beh e beh e beh finalmente la conclusione sarà contento michele a kameka kill 0 il prequel della serie kameka kill anche questa è una serie vendutissima che fa viaggiare arretrati a rotta di collo eccolo qui 4 euro e 50 e il gruppo di chelsea e la squadra di akame incrociano le strade nella guerra tra impero ed esercito rivoluzionario non c'è spazio per i legami se non per quelli destinati a consumarsi in battaglia a patata tan spade lame a più non posso poi eccolo qua il numero 14 di triage x del compianto shoji sato che purtroppo è venuto a mancare quindi praticamente triage x rimane così sono usciti 15 volumetti in giappone ma purtroppo la porta a termine qualcun altro o la serie rimarrà così la serie con un botto di fanservice vi faccio vedere una tavola a colori qua voilà voilà chiudiamo con la panini comics planet manga panini comics su casa oggi ci presenta il numero 14 di angel art second season o al prezzo di 4 euro e 50 mentre triage x non ve l'ho detto 6 euro e 50 mentre angel art 4 e 50 il rapinatore che aveva ucciso i genitori di mana e penetrato nella casa della piccola intenzionato eliminare l'unica persona in grado di riconoscerlo riusciranno shan e rio a fermarlo punto interrogativo e planet manga è finita pure lei adesso ci buttiamo su star comics ragazzi la star comics che ci propone il trentunesimo numero di rinne eccolo qua di rumico takashi al prezzo di 4 euro e 30 per poi passare al numero 19 della new edition di fairy tale eccolo qua 4 e 30 anch'esso prosegue poi la sua corsa real account che devo dire ha recuperato come numero di vendita degli arretrati si era un po' fermato ma nell'ultime due settimane è tornato proprio a rotta di collo a vendere questo game con gli sticker passa a un altro livello per ribaltare un rapporto basta un click diciamo che è un manga social horror splatter social un gioco quanto strano una versione una versione quasi moderna di batte royale quasi prezzo anche questo 4 euro e 31 shonen poi arriva terraformarts asimov si e asimov lo spin off disegnato da boici quando si trovano davanti qualcosa di mai visto prima gli uomini smettono di essere tali vediamo se riesco a far vedere qualche tavola finissima di boici guardare qualche dettaglio veramente veramente mastodontico 5 euro e 90 chissà se ce ne sono altri o finisce qui c'è scritto terraformarts asimov fine quindi dovrebbero essere due numeri special extra per erased eccolo qua la storia si era conclusa sull'otto ma il nove contiene un botto di side stories per vedere come erano i rapporti tra i personaggi un imperdibile volume extra realizzato al maestro che i sambi in persona che approfondisce il rapporto tra satorro i suoi amici attraverso appunto una serie di emozionanti di sa emozionanti di side stories prezzo 5 euro e 90 facciamo vedere qualche cosa per tutti quelli che hanno amato questa serie che pur da conclusa continua continua a viaggiare molto molto bene poi abbiamo our little sister eccolo qui il numero 4 diario di kamakura è arrivato il secondo autunno da quando le tre sorelle da quando alle tre sorelle coda se ne è aggiunta una quarta ultimamente l'attenzione di suzu è catturata da futa un suo compagno di squadra durante l'uscita di gruppo in occasione dell'otto giuglia i due fanno un incontro inaspettato ambientato nella città di kamakura una storia dolce e struggente che parla di legami di famiglia e facciamo vedere qualche cosa così volante volante ultima cosa della star siamo al numero 2 di ex arm il primo non l'ho letto quello che viene veniva presentato su anteprima come un incrocio tra ghost in the shell e video girl lie fatemi sapere cosa ne pensate se l'avete letto nel 2014 lo studente delle stupe delle sì lo studente delle superiori lo studente delle superiori akira natsume rimane coinvolto in un incidente stradale risvegliatoci nel 2030 si trova ridotto a un cervello corazzato dotato di un'elevata capacità di hackeraggio nella sua nuova identità di ex arm 00 scopre inoltre di essere stato inconsapevolmente responsabile della distruzione di una parte di tokyo e che delle misteriose bombe umane vengono usate per compiere attentati suicidi 5 euro e 90 vediamo se vi posso far vedere qualcosa anche la star è conclusa ma non finisce qui ragazzi perché 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 passiamo alla j pop signori signori un botto di roba pure per la j pop e cominciamo con ricdo numero 2 un ragazzo che non ha niente può solo lottare per sopravvivere questa è la straordinaria e tormentata storia del combattente riku azami che da bambino ha perso il padre e che purtroppo e per fortuna incontra kiosuke toro toko rozawa ex pugile ed esattore per conto della yakza prezzo 6 euro andiamo a far vedere un po' di pugilato per noi angel voice numero 35 eccolo qui prezzo 5 euro e 50 finale dei preliminari del campionato nazionale la partita comincia e l'ichiran ha subito una straordinaria occasione ma nel frattempo le condizioni di mai peggiorano all'improvviso in quegli stessi momenti il funagaku parte al contrattacco eccolo qua lo conoscete ma avete mai letto siete appassionati di calcio è il manga che fa per voi poi sprite numero 11 continua dopo che è passato dalla gp alla j pop questo io veramente non l'ho mai letto 6 euro e 90 yoshiko e i suoi amici dopo essere stati scaraventati nel periodo degli stati combattenti dall'onda del tempo sono stati attaccati dall'esercito sanada che vuole impadronirsi del palazzo la lotta è ormai senza quartiere e grazie al piano escogitato da magobe e yoshiko e gli altri si e gli altri tengono testa al nemico madonna non si legge niente in c'è un punto cioè stanno scritti su nero terribile vabbè è però dentro il figo è cazzo dentro è proprio bello mica male mica male mica male mica male ci piace questo un po meno vabbè la pagina nera la pagina nera da kashi kashi eccolo qua il numero 3 sempre per j pop questa sfida all'ultimo snack a chiamerli così mi piace come presentazione 6 euro ma zinger angels arriva il numero 3 scavallo alla metà perché una mini di 4 prezzo 6 euro con protagoniste le ragazzuole del mondo di gonagai una pagina così un strattino volante volante se mi sentire così è perché non gliela faccio più perché poi magazzino farà 94 milioni di gradi sto sudando comunque guaro e non vedo l'ora di finire perché non ce la faccio proprio più poi ecco arrivato re zero starting life in another world che è uscito il numero uno singolo direttamente il cofanetto da due albi il singolo costa 5 90 e deduco come fa sempre a pop 11 80 cioè 5 90 per due e poi c'è anche la novel tata anche se tu mi dimenticherai io non lo farò il liceale subaru natsuki di ritorno da un combini viene trasportato all'improvviso in uno strano mondo che sia uno dei mondi paralleli in cui si parla tanto di cui si parla tanto nei videogiochi quando subaru viene assalito da un gruppo di banditi rischiando la vita ecco arrivare la sua salvatrice una bella ragazza dai capelli argentei con uno spirito dalle sembianze di gatto al suo fianco con il pretesto di ricambiare il favore subaru decide di aiutarla a recuperare ciò che sta cercando ma proprio quando finalmente trovano un indizio i due vengono attaccati da uno sconosciuto e perdono la vita oppure no punto interrogativo la novel costa 12 euro ma adesso vi volevo far vedere anche un attimo l'interno per farvi capire i disegni di questo re zero credo che renda abbastanza l'idea anche questa ce la siamo levata siamo quasi alla fine abbiamo il volumone di zelda perfect edition force words eccolo qua 15 euro e dovrebbe raccogliere tutti e due i volumetti che erano usciti in precedenza in formato più piccolo voilà e poi era molto molto atteso questo killing stalking di koji o koji chiamatelo come volete 9 euro e 90 volume 1 della lezzin comics prodotto in italia da j pop ossessionato da un ragazzo incontrato all'università ma troppo tormentato per fare la prima mossa boom yun decide di introdursi nascosto in casa dell'oggetto del suo desiderio scoprendone il vero crudele volto e diventandone volontariamente prigioniero a inizio un gioco ospitato tra vittime e carnefice amore e morte il webcomic che ha conquistato il mondo nella sua prima edizione cartacea e vediamo se vi posso far vedere qualcosa per rendere l'idea ed è anche in questo caso un volume sovracopertinato temi forti temi forti ragazzi temi forti non ce la faccio più mi vado ad idratare ragazzi perché ho perso tutti i sali minerali che avevo nel corpo allora vi rinvito di nuovo a iscrivervi alla pagina tg comics su facebook per quanto riguarda un elenco parziale delle testate lo trovate qua sotto in descrizione e se ce la faccio metto anche il minutaggio per le diverse categorie e iscrivetevi anche al canale youtube ringraziamo tutti quelli che vorranno condividere e spammare il nostro video se volete lasciate anche un mi piace o registratervi alla pagina facebook del forbidden planet roma nel contempo noi vi invitiamo sempre a venirci a trovare nella batcaverna vi ringraziamo sperando che il caldo ci tenga tutti quanti in vita perché stiamo stramazzando al suolo un bacio un saluto da luca penso a venerdì prossimo se non prima con qualche recensione ciao